Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale va in questa direzione, questa importante iniziativa, Assessore Scudio? Sì, quest'anno abbiamo anche aumentato i fondi perché da 3 milioni e 2 siamo passati a 3 milioni e 6, consentendo quindi a 600 cittadini abruzzesi che sono esclusi completamente dalla vita sociale e soprattutto dalla vita lavorativa, possano avere un'opportunità. Abbiamo anche aumentato quindi anche il numero dei mesi in cui potranno fare il tirocinio perché da 6 mesi potranno farne 12, aumentando quindi la possibilità di poter essere poi impiegati a tempo determinato o indeterminato. Abbiamo 80 tirocini extracurriculari in partenariato con il Comune di Chieti e il Comune di Guardia Grele, Francavilla Capofila e abbiamo un partenariato ampio che è poi la forza di questo progetto, ma proprio dell'iniziativa regionale, un partenariato pubblico privato dove all'interno abbiamo agenzie per il lavoro, enti di formazione, enti datoriali e soprattutto organismi del terzo settore, quindi cooperative di tipo B e associazioni. Questa è la forza di questo progetto, al di là appunto dell'inclusione sociolavorativa che è importantissima, Abruzzo include, ci consente per la seconda volta di sperimentare dei partenariati pubblico privati che a mio avviso hanno proprio l'obiettivo di diventare, di autosostenersi nel tempo, quindi non più una mera logica di assistenzialismo ma modelli proprio di organizzazione e gestione che ci possano consentire nel tempo di creare proprio dei meccanismi virtuosi di sostegno all'inclusione. Ci rivolgiamo a soggetti svantaggiati, molte volte proprio caratterizzati da un doppio svantaggio, quindi non solo povertà certificata ma tutti i soggetti, i nuovi ingressi, quindi gli immigrati, tutti le persone che vengono da un'esperienza di dipendenza, quindi ex tossicodipendenti, ex alcolisti ma anche ex detenuti, donne vittime di violenza, senza tetto. Questo è il panorama a cui ci rivolgiamo e siamo convinti che come nella prima esperienza anche in questo caso avremo una percentuale di successo importante.